Ma subito, dermatite seborroica e soprattutto acne, curate nel modo più scientifico possibile. Andiamo a vedere con Olimpia Mignosi, poi torniamo in studio. Quell'acne che compare sul viso è l'incubo che affligge molti giovani. E l'80% di adolescenti, dicono le statistiche, le prese con questo disturbo, dalle forme più lievi a quelle più rilevanti. Un problema di natura estetica e non solo. Il primo passo da compiere in ogni caso è inquadrarne la gravità. Nel centro di metabolomica del San Galicano di Roma, un'equipe di medici e ricercatori mette sotto la lente di ingrandimento la cute e le molecole di sebo che la nostra pelle rilascia. Che è questo sistema che ci protegge dagli attacchi esterni e che mantiene la pelle in buono stato. E particolarmente adesso ci stiamo occupando del sebo, cioè gli lipidi prodotti dalle ghiandole sebacee che sono associate alle patologie come l'acne o la dermatite seborroica. E questo ci ha permesso di poter avere delle ipotesi innovative sul trattamento per esempio dell'acne. Nei casi più severi la strategia di attacco passa attraverso indagini e analisi specifiche. Il sebo è certamente il fattore principale che è associato all'insorgenza dell'acne. Capire come il sebo è alterato aiuta a capire perché viene l'acne. Per il team la strada della ricerca ha cominciato da qualche tempo. Punto di partenza la coltivazione di cellule della pelle in laboratorio. Lo sviluppo di una terapia dell'acne così come noi abbiamo fatto recentemente è cominciato da modelli cellulari, quindi coltivando le cellule della pelle in laboratorio, stimolandole in maniera diversa, per esempio con l'insulina su cui adesso c'è tanta attenzione correlata all'alimentazione dei ragazzi e valutare se questo altera la produzione del sebo. Poi abbiamo verificato in vivo se effettivamente nei soggetti con acne trovassimo indicatori metaboliti, piccole molecole che rappresentassero che effettivamente anche in vivo il processo era analogo rispetto a quello che avevamo riprodotto in vitro e poi su questo abbiamo sviluppato la possibilità di fare una terapia. Per affrontare il problema e cominciare un percorso di cura cruciale è il momento di confronto con il paziente. Mi è apparsa intorno ai 18 anni e mi sono presentato al centro di metabolomica per capire le cause che hanno scaturito tutto ciò. Si capisce un po' la sua storia, quanto è cresciuto, quanto si è allungato, quello che mangia, quali sono le sue abitudini che possono condizionare le manifestazioni cliniche. Noi poi facciamo un'analisi del sebo, uno studio per l'appunto metabolomico e cerchiamo poi con i trattamenti di verificare che le alterazioni che riscontriamo possono essere ricomposte e possono rientrare, quindi riavere alla fine un sebo normale. Grazie a cerotti e strumenti di ultima generazione viene analizzato il sebo per capirne le molecole che lo compongono. Applichiamo questi cerottini che assorbono il sebo, sono come se fosse delle piccole spugnette che vengono messe lì, le teniamo per un certo periodo di tempo in maniera che possono raccogliere una quantità di sebo, di grasso della pelle, poi questo lo tiriamo fuori dai cerotti e lo analizziamo. Stiamo valutando se la terapia che abbiamo iniziato a novembre funzioni, quindi è tutto un percorso da novembre in poi, piano piano facciamo dei controlli. Lo studio della metabolomica del sebo aiuta anche a capire come sta funzionando una terapia o la terapia che abbiamo scelto sia appropriata.